La Yamaha non farà più la R1 stradale e quindi questo qui ha acceso una bella discussione nella pagina del Maxi stradale anni 80-90 con tanti argomenti che si sono mescolati. Allora, per quanto riguarda il fatto che per esempio non la faccia, non è una questione di normative perché è possibile benissimo farlo semplicemente una scelta commerciale della Yamaha che dice non mi conviene fare la R1 Euro 5 Plus e preferisco investire su altri modelli. Non c'entra l'Europa, non c'entra l'inquinamento, non c'entrano le prestazioni e semplicemente ha cambiato il mercato e le grandi case si adeguano e la Yamaha non è stata la prima. Poi dopo sono venuti fuori tanti discorsi perché non guidiamo più su strada, colpa dei Velox, colpa dei troppi cavalli, colpa dell'elettronica, c'è sempre colpa dell'elettronica. In realtà ragazzi tutte queste cose c'erano anche prima. I cavalli li avevano anche le nostre povere moto degli anni 90, cioè non è che fossero delle carriole, quindi i cavalli ce n'erano, erano anche più che abbondanti di quelli di allora, quindi non è una questione di cavalli. Non è questione di elettronica ovviamente, è solo questione che è cambiato il mercato, sono cambiato i motociclisti, tutto qua. Poi è vero, a questo aggiungiamo il fatto che le moto hanno avuto un'evoluzione importante, cioè se pensi alle moto anni 90 e alle sportive, alle super bike di oggi c'è una bella differenza perché per esempio una moto che mi viene in mente, l'ultima che ho avuto l'X-Up, si poteva guidare su strada decentemente, cioè era abbastanza confortevole e aveva una prestazione, mi sa che erano abbastanza buonine, non mancavano certo e invece oggi sono molto più specialistiche, quindi più anche faticose da guidare. Però diciamo che è cambiato il mercato, ecco questo secondo me è proprio il motivo principale. Tra i tanti discorsi che sono saltati fuori c'è il discorso al quale io tengo molto guida in pista e guida su strada. Allora, io faccio solo un esempio e poi dopo magari vado nei dettagli. Io la prima volta che sono andato in pista, ovviamente da assoluto principiante, senza avere una guida, senza sapere nulla, quello che mi è rimasto della pista sono due cose. La prima è che ho visto molta, molta più pericolosità nella guida su strada, cosa che prima non ci facevo caso. E quindi ho visto gli alberi, i muretti, le case, cose che prima erano parte del paesaggio, dopo si è diventate degli ostacoli che mi facevano spaventare molto, per cui da lì già mi sono andato ridimensionata. E la seconda cosa, ho visto che guidando ai limiti i miei ovviamente, non a quelli della moto, una su in pista, tu raggiungi dei livelli di guida che poi su strada non raggiungi. Non tanto se hai un minimo di cervello, che quello diciamo, lo abbiamo un po' ascoltato, ma non raggiungi perché non ci sono le condizioni. Cioè l'asfalto non è quello buono della pista. Una curva, anche se tu conosci benissimo un percorso, una curva può cambiare da un giorno all'altro perché è sporca, per vari motivi. Se il percorso è nuovo, magari puoi fare due o tre curve belle perché c'è l'asfalto buono e poi magari ti diventa un pezzo di asfalto scivoloso. Quindi capisci che non puoi fare la staccata, la piega, lasciamo stare poi dopo, diciamo, la pericolosità e anche i limiti del codice che ovviamente non ci fanno fare niente. Però non puoi più guidare la moto sportiva come la sai guidare. E allora questo qui per me è stato un po', diciamo, non dico un trauma, però mi ha tolto il gusto di andare con la moto sportiva su strada, perché, faccio un esempio, avevo l'ex app allora ero a Bologna e quindi strade lì per dei motociclisti ci sono, basta andare sulla futa. E lì che cosa è sulla futa? E lì cosa ho fatto? Sono uscito con questa tuta, tutto aggasato quando prendo la mia ex app, poi faccio un po' di strada e dico, vabbè, ma adesso dove vado? Il traffico, le cose, l'asfalto, cosa faccio? Voglio fare una curva, non sono riuscito a fare neanche una curva. Allora sono tornato a casa, l'ho messa via e lì ho cominciato un po' a vedere la guida su strada in modo, in modo differente. E questo è la cosa che, diciamo, è importante per noi, per i motociclisti. su strada si va a passeggio, quindi le gare, lascia stare le gare, ma neanche il fatto di goderti la moto, non te la godi su strada, parlo ovviamente delle sportive con tanti cavalli. E allora lì, personalmente, mi sono orientato su altre moto, poi ho cominciato il mio lavoro di giornalista, quindi l'ho guidata una migliaia e quindi non esiste più il concetto della guida sportiva su strada, non su strada, vado in pista, non vado in pista. Dopo sono cambiate tante cose. Ecco, qua nel video vi mostro questo alternare di guida su strada e guida in pista per mostrarvi quali sono i differenti. Cioè, voi lo sapete, come dico, è un concetto molto, molto banale. Però vedo che di tanto viene fuori questa cosa, no? E allora ci tengo a dire la mia su questa differenza. Adesso vi voglio raccontare una cosa simpatica. Allora, questo ho messo la tuta perché, prima di tutto, l'argomento si è stato sviluppato nella pagina del maxi stradale anni 80 e 90. Questa è stata la mia prima tuta anni 90 e quindi ci tenevo a farmi vedere con questa. E poi l'altra cosa è che la tuta con la quale sono entrato in pista per la prima volta e adesso vi racconto un pochettino, perché fa anche ridere. Cioè, secondo me fa ridere, fa molto ridere. Va bene. Allora, avete visto che vi ho raccontato le mie avventure africane, no? Io sono partito con, non dico il fuoristrada perché non è fuoristrada, però con, diciamo, i viaggi avventurosi. Ne ho fatti due in Africa. Uno l'ho raccontato, l'altro lo racconterò più avanti, che è quello più bello dove abbiamo fatto un bel po' di piste con la sabbia. Dopodiché, dopo questa mia parentesi africana, ho comprato una GPZ 900R usata, perché poi io ho comprato, a parte la prima moto che ho preso, le ho prese poi sempre usate, che insomma, secondo me vale la pena. Ho preso una GPZ 900R e con questa, dopo aver girato un pochettino su strada, ho deciso di andare in pista. Avendo la fortuna di abitare Pesaro o Misano a 10 chilometri, quindi figuriamoci quanto ci voleva. Io mi filavo la tutta, andavo, giravo e poi tornavo a casa. Prima di andare in pista, con la mia GPZ e i miei amici pesaresi, tra cui Gian Piero Gadani, il famoso concessionario di Pesaro, abbiamo fatto dei bei giri, no, qua attorno, perché con quelle moto all'epoca si facevano quei giri lì. Erano le prime maxi da oltre 250, quindi, caspita, c'era una bella grinta da mettere su strada. Noi ci divertivamo molto, andavamo, insomma, non dico forte, però andavamo in modo brillante, abbiamo già stracciato i jeans, ci piaceva tanto, insomma, avevamo questo concetto qui. Poi dopo, come vi dico, sono andato in pista, ho cambiato il concetto e dopo sono cambiate anche tante altre cose, però c'è stato il periodo, quello che volevo dire, c'è stato il periodo della strada e il periodo della pista. Allora, la pista, io non ho avuto la fortuna di avere una compagnia che mi accompagnasse per la prima volta in pista e questo è stato un po', diciamo, più faticoso, no, perché se tu entri con uno che ti fa vedere la pista davanti, tu riesci molto prima a capire, a essere tranquillo, ecco, dai, a capire un po' come va, come funziona, riesci a essere più tranquillo nella guida in pista. Andando da solo, tu, boh, dici vai, dici, che ne so, come funziona qui, come non funziona. Ecco, a questo proposito, se volete andare in pista, cosa che io vi consiglio, se avete una sportiva e non siete mai andati, fate un corso di guida, perché non è solo più sicuro, ma vi risparmia tutta l'ansia del primo tempo, delle prime uscite che, insomma, vi dico, è abbastanza interessante. Allora, primo giorno che vado in pista a far ridere, anzi, prima curva, il carro a Misano. Allora, vado nei box, avevo la fortuna di essere assistito, diciamo, da un mio amico pilota, Giumbo, Massimo Giumbini, che mi dava tutte le dritte, no? Devi fare così, devi fare cosa, come freni, come quanto a gas, devi dare molto, come, insomma, mi dava un po' tutte le dritte, però lui, non avendo la moto, non mi poteva accompagnare, no? Quindi lui mi diceva tutte queste cose, io ascoltavo e poi entravo in pista e boh, vedevo come girare, no? E giravo un po', ovviamente, da turista, no? In pista, le prime volte da sordo, anche le seconde, non è che poi c'è stato... Anzi, voglio puntualizzare che io parlo della pista, ma non mi sento un pilota, non sono un pilota, sono una persona, un motociclista normale, a quale piace andare in pista e piace arrivare al limite. Ovviamente parlo del limite mio, non quello della moto, perché al limite della moto ci arrivano i piloti e quindi c'è questa bella differenza. Non voglio raccontarvi questa cosa da motociclista normale, ecco, non da pilota, questo è importante. Allora, vabbè, torniamo alla nostra prima curva. Io arrivo ai box, parcheggio, vado sul moretto e vedo che sfrecciano davanti, chiaramente, ai box di Misano, tutti questi assatenati, no? E ai 200, boh, 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 boh. E ho detto, ma donna, io devo andare in dentro con questi, lo sai? Quando tu vai lì, che è la prima volta che non sai niente, è un po'... è un po'... cosa posso dire? Emozionante, ma spaventa sta cosa, no? Perché dice, vai dentro, dici, dove vado a finire con sta roba. Allora, qual è stato, cosa è stato il bello di questo, di tutto questo giro? Che, quando vai dentro, la velocità non è esattamente quella che tu vedi dai box fermo, perché tu cammini, quindi è chiaro che ti passano quelli più veloci, però non è che ti passano i 200 e tu sei fermo, ti passano una velocità decente per cui sei un pochettino più tranquillo. Insomma, vabbè, vi dico della prima curva, esco dai box, fai la 1, poi dopo c'è questo famoso carro. Qual è la differenza tra la pista, poi soprattutto quella di allora, e la strada, che la strada tu vedi bene com'è fatta, no? Perché, infatti magari lo conosci, però vedi bene, ci sono linguretti, ci sono gli alberi, ci sono delle macchie, cioè c'è tanta roba che ti fa capire molto bene com'è fatta la strada, come devi curvare, in sostanza. Invece nel circuito, soprattutto, mi sanno la prima volta che c'era solo un cordolino, che adesso mi sembra di ricordarlo così, e tutto questo, questa sensazione della curva, io non l'ho avuta, no? Mi sembrava di andare quasi dritto, o fare una curva molto larga, o di andare quasi dritto. Allora arrivo al carro, tutto felice, e quando sono lì mi accorgo che c'era la curva, no? Quindi frena, frena, festa, curva, festa, curva, tutto sull'altro. Insomma, quello è stato il primo concetto. È interessante notare che anche Mario Lega ha avuto questo, diciamo, non problema, però questa difficoltà iniziale a capire come voltava il circuito, perché quando è nato nel 72 Misano, era una novità, un circuito così, fatto in quel modo, perché loro fino a un pochi anni prima guidavano certo in alcuni circuiti, ma soprattutto si correva nei trocciati cittadini, no? Quindi con tutte quelle cose terribili che ci sono in città, i muretti, le case, i pali, i pali della luce, i marciapieni, no? Che però ti facevano capire com'era la curva, no? Invece entrato lì in pista, le prime volte, forse, magari non c'era neanche il cordolo, questo non te lo so dire, era il 72, quando l'avevano costruita, e loro facevano fatica a capire come girava questa curva, e loro pensate che per far vedere un po' com'era fatta, gli hanno messo proprio i birilli, quelli che si mettono su strada, e quindi andavano dentro e, insomma, così riuscivano a capire, poi chiaramente col tempo hanno preso un po' la mano, diciamo, ecco, penso che insomma il suo giri abbastanza bene. E altra cosa interessante è che era difficile capire dei tempi, no? Perché tu entrivi dentro, prendevi dei tempi e dici, com'è? Boh, non si sa. Dopo è chiaro che col passare dei mesi, degli anni, con le prove, si è sistemato tutto, però interessante capire questa bella, questo approccio iniziale con la pista. Adesso è più facile perché ci sono i cordoli che sono larghi metto a metro, ci puoi anche andare dentro. Aldo ha disegnato tutti gli spazi di fuga, quindi se non lo vedi proprio sei cecato. Se vai fuori in spazi di fuga, capirai, fai un pezzo di asfalto, poi torni dentro, quindi siamo un pochettino più tranquilli. Però all'epoca quella è stata il mio primo, la mia prima cura è stata veramente memorabile, è stata molto divertente e vabbè, poi da lì abbiamo cominciato a girare un po' in pista, a divertirmi. Ecco, il discorso del pilota, ci tengo di nuovo a ritirarlo fuori. Io considero la pista come il posto più bello per guidare una moto che deve essere sportiva e deve avere oggi per me tutti i cavalli che esistono sul mercato, quindi vengono oltre 200 e l'elettronica. Quello secondo me è il massimo della moto oggi. Che poi il limite della moto c'è qua, il mio sia qui e quello è evidente perché, insomma, i piloti arrivano lì, no? Quindi io non ci arrivo. Ma questo non importa. Non importa perché quello che ti dà arrivando al tuo limite è già tantissimo ed è una cosa straordinaria. Tolto questo, con l'esperienza che ho fatto di guida in questi anni di giornalismo, mi si è anche un po' aperta la mente, nel senso che non vedo più la moto in questo modo qua, diciamo, esageratamente, cosa posso dire, spinto, no? Ma la vedo a molto più ampio, quindi mi posso divertire ad andare in giro con una 350 da 20 cavalli come con una Street Fighter dal 208. Concludo con una nota di... una cosa che mi disse Carlo Tallamo tanti anni fa, lui comunque era abituato a guidare la moto, insomma, aveva una bella esperienza, quindi in moto ci andava sul serio. E ha detto che una delle cose più divertenti che ha fatto è stata una riedizione di una gara storica, non so fosse alla Miglia Miglia, non so che cosa, però lui ha preso una moto dell'epoca, di quelle da 125, 150, da 12 cavalli, 9 cavalli, non so quanti ne avessi, ha detto che è stata una giornata per lui più divertente, più bella in moto che abbia mai vissuto. Penso che abbia ragione, non c'entrano le prestazioni, non c'entra nulla, c'entra quello che tu riesci a ricavare da questa esperienza in moto. Ciao, prossima volta aspetta che la facciamo. Abbiamo parlato della BMW HB2 Sport che vedo che ha suscitato un po' di interesse, mi piace, mi è piaciuta, e lì c'è da raccontare, beh, anche non solo la moto ma il concetto di quella moto. E poi rimane quel viaggio in Africa vero è quello lì, mettetevi con i panini che quello sarà bello lungo. È un'esperienza fantastica e vabbè, dai, ve lo voglio raccontare, mi voglio già adesso, però non sarebbe troppo lungo. Già, ci vediamo i prossimi giorni.